Buongiorno a Barabaro Sensei. Erano destinate a persone specifiche, dovevano leggere soltanto loro, ma noi oggi le leggiamo appunto. Una tale quantità di disposizioni ufficiali, di ordini di gabinetto, di missive diplomatiche, che è possibile seguire l'andamento della sua mente e il lavorio della sua mente sull'arco di tutta la sua vita, non solo negli anni in cui è stato un politico, ma già prima. Già quando era un ragazzo di buona famiglia e con grandissime ambizioni e pochi soldi, quando poi è diventato un giovanotto attivo negli affari e ben deciso a diventare l'uomo più ricco del regno, cosa che è diventato effettivamente, quando è diventato un economista rispettato, poi quando si è buttato in politica. Allora, fra le tante cose di cui potremmo parlare, io vorrei fermarmi innanzitutto su questo, sull'idea d'Italia, e scusate se a dirlo così oggi sembra già subito una cosa, come dire, scolastica, scontata. Vorrei provare a fare l'esatto contrario. Cavour nasce nel 1810, suddito dell'imperatore Napoleone, in un Piemonte che è stato annesso integralmente alla Francia, è una serie di dipartimenti francesi, in una grandissima e ricchissima famiglia nobile che è pienamente allineata col regime napoleonico, ovviamente quando quattro anni dopo torneranno in Savoia la famiglia di Cavour si allineerà immediatamente alla restaurazione e continuerà a prosperare e a fare affari anche sotto i Savoia, ma quando nasce lui è una famiglia talmente inserita nel sistema napoleonico che il padrino di Cavour è il principe borghese, governatore napoleonico di Torino, si chiama Camillo Borghese, per quello che anche il nostro si chiama Camillo, e la madrina naturalmente è la moglie del principe Camillo Borghese, cioè la Paolina, Paolina Bonaparte, sorella dell'imperatore. È chiaro che questo era bambino in quel contesto con in più una mamma di Ginevra, la sua lingua materna è il francese. In quegli anni lì non è che in Piemonte si parlasse tanto francese, l'italiano si parlava male e il francese malissimo, ma la nobiltà di corte in quegli anni parlava francese. E dunque Cavour per tutta la vita si troverà più a suo agio col francese che non con l'italiano. Ora, quello che viene fuori in modo sorprendente dalla corrispondenza del giovane Cavour, ma non è sorprendente perché lui era uno speciale, secondo me è proprio il contrario, perché lui scrive a un'infinità di persone, nessuno delle quali sembra trovare strano quello che lui dice, quello che è sorprendente per noi oggi, che siamo abituati a pensare appunto che siccome l'Italia politica unita non esisteva, e allora è un po' come se non ci fosse stata proprio l'Italia, no? E siamo abituati a pensare che l'italiano non lo parlava nessuno e quindi non c'era l'Italia. Invece quello che è sorprendente è vedere come per un giovane come Cavour, ma per tutta la sua generazione, che è quella che ha fatto il risorgimento, era del tutto ovvio sapere che c'era l'Italia, che loro vivevano in Italia, che erano italiani e che era del futuro dell'Italia che la loro generazione si preoccupava. Questo viene fuori in modo martellante dalla corrispondenza e dai libri del giovane Cavour. A vent'anni c'è stata la rivoluzione di luglio in Francia, è caduta la monarchia borbonica, adesso sale la monarchia degli Orleans, ci sono grandi aspettative di progresso e Cavour scrive a un amico inglese, sentivamo prima di questi amici che lui ha sempre coltivato, Cavour scrive a un amico inglese, in francese naturalmente, traduco mentre tutta l'Europa si incammina con passo deciso nella via del progresso, la misera Italia è sempre prostrata dallo stesso sistema di oppressione, civile e religiosa. Siamo ridotti a contemplare la nostra patria attraverso le baionette austriache. Dite ai vostri compatrioti che non siamo indegni della libertà. Cinque anni dopo Cavour pubblica il suo primo libro, è uno studio sulla condizione delle classi operaie. Nel fare quella ricerca capisce parecchie cose che poi gli torneranno utili, quando sarà al governo, quando per esempio spiegherà che lo sciopero rimane una brutta cosa e va represso, però i salari degli operai bisogna aumentarli se vogliamo evitare il socialismo. A venticinque anni pubblica il suo primo libro, in francese. Un amico, che poi è Cesare Balbo, altro nobile torinese, altro protagonista del Risorgimento, gli scrive e lo sgrida. Perché hai scritto in francese? Dovevi scrivere in italiano. E Cavour gli risponde, in francese, Avrei dovuto stendere il mio lavoro in italiano. Era per me un dovere. Guarda, malgrado tutte le delusioni, l'amore per la mia patria italiana non si è per nulla indebolito nel mio cuore. Venticinque anni, eh. Amo l'Italia e la vorrei servire in qualche modo. Vorrei contribuire al suo onore e alla sua gloria. Poi dice, in quell'epoca le specializzazioni non sono ancora di moda, potrei fare il letterato, lo scrittore, potrei fare lo scienziato, forse anche, ma pensa di più a fare il letterato in realtà in quel momento. E dice, non ne ho la possibilità, perché io devo fare l'umiliante confessione che la lingua italiana mi è rimasta, sino ad oggi, completamente estranea. Poi ben presto si convincerà che non è fare lo scrittore comunque il suo lavoro. In un'altra lettera confessa, dice, io non sento in me alcun genio letterario. Sono completamente privo di immaginazione. Non sono mai stato capace di inventare neanche una favoletta per divertire un bambino. Niente. In realtà non era del tutto privo di immaginazione, ma la sua immaginazione si metteva in movimento quando si parlava di politica. E questo da sempre. Scusate, vi somministro lettere di Cavour una dopo l'altra, ma è stata pensata così questo intervento. A 22 anni, Cavour scrive a un'altra amica, la Marchesa Giulia di Barolo, una delle donne più ricche, anche lei del regno, grande benefattrice, è una lettera di quelle che si scrivono a 22 anni. Avete presente quando a 22 anni ti senti molto adulto e guardi con un certo distacco a com'eri ingenuo quando ne avevi 17? Ecco. Cavour a 22 anni, dice, io ormai sono disilluso, non ci credo più ai sogni della mia adolescenza. E qui cito quando avrei creduto del tutto naturale risvegliarmi un bel mattino primo ministro del Regno d'Italia. Siamo nel 1832, non c'è alcun Regno d'Italia all'orizzonte, mancano ancora altri 30 anni, ma Cavour confessa a un'amica intima, in privato, noi lo leggiamo, ma nessuno doveva leggerlo, che lui da ragazzino si immaginava primo ministro del Regno d'Italia. Un profeta, no? Si diceva. Ecco. E questa prospettiva italiana è quella che lo guida quando, dopo questi anni di giovinezza in cui Brancola un po', si entusiasma per la rivoluzione in Francia, lui è ufficiale in quel momento del genio armadotta e quindi guardata con sospetto dal governo e dalla polizia, perché sono degli intellettuali pericolosi gli ufficiali del genio. Tanto che Cavour nel 30, dopo la rivoluzione in Francia, si dimette dall'esercito perché si è eroso conto che è spiato dalla polizia. E capisce che essere ufficiale del genio contribuisce a farlo passare per un pericolosissimo sovversivo agli occhi del governo dei Savoia. Allora, in quegli anni Brancola un po' nel buio, poi però viene il momento in cui decide che quello che vuole fare è diventare ricco. Tenete conto che lui è di famiglia straricca, ma è il figlio cadetto. Andrà tutto al fratello maggiore. Il papà lo lascia giocare, gli dà dei soldi, gli dà delle dritte per giocare in borsa, Cavour non è quel gelido calcolatore, è un entusiasta, è un passionale, si butta, perde rovinosamente. A 30 anni scrive da Parigi al padre per comunicargli che ha perso 40.000 franchi, mezzo milione di euro. e dice al papà, guarda, se non paghi tu l'unica alternativa che ho è farmi saltare le cervelle. Il papà paga, dopodiché Cavour mette la testa per Tito, impara a usare meglio le soffiate che gli arrivano dagli amici di famiglia, diventa straricco, ma diventa straricco studiando i meccanismi dell'economia e diventa anche il più rispettato economista del regno e come economista pubblica, pubblica saggi sulle esportazioni, sulle ferrovie del regno di Sardegna, nemmeno per idea, sono saggi sulle esportazioni dell'Italia, dove ragiona sull'esportazione della seta piemontese e dell'olio pugliese come se si trattasse di un unico comprensorio. E scrive sulle ferrovie nel 45, è il saggio che citava anche il direttore, quindi ben prima che ci sia anche soltanto la prima guerra di indipendenza, ma è un saggio su quello che lo sviluppo delle ferrovie porterà all'Italia. Tra parentesi, io ero rimasto convinto che la TAV fosse un progetto vecchio di 30 anni e che per quello fosse un po' assurdo pensare di vendercelo come una cosa indispensabile per il nostro futuro, la prendo con piacere che è un progetto vecchio di 170 anni invece. Dopodiché, dopo di che Cavour scrive questo saggio per una rivista svizzera, tanto per cambiare, per una rivista svizzera sulle ferrovie italiane e su come le ferrovie porteranno all'Italia un grande futuro, il direttore della rivista non osa pubblicarlo. E gli scrive dicendo guardi abbia pazienza, io non posso pubblicare questa cosa, non ho letto finora niente di più profondamente, di più seriamente ostile alla dominazione austriaca in Italia. Non si parla affatto della dominazione austriaca nel saggio, ma si dice che bisognerebbe fare il treno Torino-Milano e forse Torino-Milano-Venezia, Trieste no, ma Torino-Milano-Venezia sì e la gente all'epoca capiva cosa volevano dire queste cose. Cavour pensa all'Italia anche quando si butta in politica, ovvio si butta in politica perché è un ambizioso, ormai che è ricco cos'altro fare nella vita? A fortuna, proprio in quel momento scoppia il 48 e quindi c'è lo statuto e quindi per la prima volta nella sua vita vive in un paese dove ci sono i partiti, le elezioni, i giornali liberi, ci si butta. Non è subito eletto nel 48, si lamenta un po', poi riesce a essere eletto in un'altra elezione, poi c'è il disastro della guerra, il 48, il 49, Novara, da Zeglio al governo. In questo paese scioccato dalla catastrofe e il paese è sempre il regno di Sardegna, ben inteso, Cavour si aspetta, lui che è il più grande economista del regno, di essere chiamato al governo, al Ministero delle Finanze. Non lo chiamano. se ne va in campagna e scrive, qui voi mi scuserete, ma lo storico è obbligato a citare le fonti testualmente, scrive a un amico quando si è reso conto che non lo chiameranno al governo. Me ne vado in campagna dove avrò la consolazione di vivere come se quella puttana d'Italia non esistesse. È sempre l'Italia, siamo nel regno di Sardegna, ma è ovvio per lui e lo dice come vedete non in pagine scritte per i posteri e destinate a restare nei libri di testo. Per lui è ovvio che un politico ragiona nella prospettiva italiana. Così come quando al governo imbastirà davvero la trama delle alleanze con la Francia e con l'Inghilterra che venivano ricordate prima e entrerà nella guerra di Crimea come momento fondamentale questo l'abbiamo studiato tutti a scuola il momento fondamentale per garantirsi un posto al tavolo delle trattative e quindi poter discutere della politica europea alla pari o quasi con i ministri degli esteri inglesi, francesi, russo ecco quando lui deve giustificare questo ingresso in guerra lui dice è interessante Palmerston parlava della gratitudine Cavour dice non è che io voglio procurarmi la gratitudine dell'Inghilterra o della Francia lo sanno tutti che in politica la gratitudine non vuol dire niente ma devo voglio fare questo per rialzare la reputazione dell'Italia e perciò due cose sono necessarie primo di provare all'Europa che l'Italia ha senno civile cultura politica potremmo dire oggi abbastanza per governarsi regolarmente cioè come un paese normale nell'Europa dei metà ottocento un paese normale non ha più baionette straniere in casa a sostenere il trono del sovrano per reggersi a libertà e la seconda cosa che dice in secondo luogo noi dobbiamo provare al mondo all'Europa che il valore militare dell'Italia è pari a quello degli avi suoi che tra parentesi sarà poi il motivo per cui Cavour fra mille dubbi ed esitazioni deciderà poi sempre di lasciare andare avanti Garibaldi quando intorno a lui c'era gente che gli diceva ma guarda che quello è pericoloso farà la rivoluzione farà la rivoluzione a Palermo farà la rivoluzione a Napoli buttateli a mare finché siete in tempo ed è lì che Cavour dirà quella frase meravigliosa che è stata citata dirà a un certo punto no io ho deciso dobbiamo lasciare andare avanti Garibaldi preferisco giocarmi la mia reputazione agli occhi dei governi perché tutti i governi d'Europa stanno guardando con preoccupazione ecco piuttosto che non veder fatta l'Italia visto che all'improvviso si è scoperto che si può fare subito dunque la prima cosa che mi interessava appunto sottolineare era questa noi dobbiamo fare molta attenzione qual è il problema sempre quando uno studia il passato la cosa più difficile è capire in che mondo vivevano come pensavano come vedevano il mondo loro il fatto che quella generazione vivendo in un'Italia divisa come vedevamo prima fra regni stati staterelli ducati e principati ecco gli intellettuali di quella generazione davano per scontato di essere italiani di vivere in Italia e di dover pensare in una dimensione italiana e aggiungerei lo davano per scontato perché gli dava un po' fastidio che gli italiani fossero considerati un popolo di mandolinari di cialtroncelli di camerieri di domestici che non avevano nessuna capacità politica nessuna capacità militare e nel mondo non contavano niente ora ho ancora cinque minuti veramente dovrei guardare lui grazie cinque minuti è un altro tema quello che volevo provare a trattare che mi sembra però comunque giusto introdurre perché noi qui stiamo parlando di un uomo che appunto è morto a 50 anni subito dopo che si era realizzato grazie a lui e grazie a Garibaldi e grazie alla tolleranza degli inglesi qualche cosa che lo stesso Cavour pochi anni prima considerava una corbelleria cioè l'unità d'Italia non che la considerasse una corbelleria perché non la voleva gli sembrava impossibile farla così in fretta invece si è realizzata e lui muore subito dopo e l'Italia viene governata dal suo partito ma senza di lui l'Italia viene governata da quella che poi si è chiamata la destra storica allora si diceva la destra e basta viene governata dalla destra e anche se io ne ho una conoscenza molto superficiale vorrei saperne di più però mi sono fatto abbastanza l'idea che in quei primi 10-20 anni della sua storia unitaria forse anche 30 fino a Giolitti l'Italia sia stata governata molto male certamente limitiamoci al primo decennio il primo decennio è quello in cui l'Italia dopo 10 anni in cui Cavour ha investito costruito infrastrutture modernizzato il porto di Genova che in quei 10 anni ha triplicato il suo fatturato costruito la rete ferroviaria e così via indebitando lo Stato certo e tassando c'erano le canzonette satiriche in Piemonte e a Genova a maggior ragione sul fatto che non puoi far niente nella vita neanche quando muori vorresti morire e seppellirti tranquillo e arrivano subito quelli delle tasse l'imposta sui cimiteri l'imposta sulle bare ecco e i suoi successori decidono che la cosa più importante è il pareggio di bilancio e gli investimenti non è che smettano si fanno si fa qualcosa anche al sud ferrovie ma poco gli investimenti si fanno poco perché bisogna fare il pareggio di bilancio e pazienza se il paese è poverissimo e se fare il pareggio di bilancio vuol dire la fame per le masse e le rivolte contro la tasse sul macinato almeno non l'hanno messo nello statuto di fatti però hanno fatto quella politica lì e poi e poi hanno avuto l'enorme problema dell'insoddisfazione nel mezzogiorno che si è tradotta nel brigantaggio e lì è chiaro che la repressione è stata di una violenza estrema per mano di un esercito a cui la politica ha dato mano libera e la politica è la politica nazionale naturalmente erano governi pieni di ministri anche meridionali ma le classi dirigenti meridionali i galantuomini erano in prima linea per volere che i briganti fossero sterminati naturalmente e poi si fa la terza guerra di indipendenza un'altra catastrofe morale è vero che prendiamo il Veneto però l'immagine dell'Italia agli occhi del mondo e ai propri stessi occhi subisce un tracollo in quell'occasione è difficile immaginare oggi quanto fossero delusi tanti di quelli che ci avevano creduto nell'Italia Unita anche qui voglio fare un paio di citazioni e chiudo con quelle all'indomani del disastro di custozza e di lissa Pasquale Villari allora professore all'università di Firenze e futuro ministro della pubblica istruzione Pasquale Villari pubblica sul Politecnico un articolo che si intitola di chi è la colpa sentite come nel 1866 Pasquale Villari rivede l'Italia viene il seno della nazione stessa un nemico più potente dell'Austria ed è la nostra colossale ignoranza sono le moltitudini analfabete i burocratici macchina i professori ignoranti i politici bambini i diplomatici impossibili i generali incapaci l'operaio inesperto l'agricoltore patriarcale è la rettorica che ci rode le ossa non è il quadrilatero di Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino ma è il quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e 5 milioni di arcadi cioè appunto la classe dirigente immersa nella sua cultura astratta un altro che ci sta male da morire è Carducci Carducci qualche anno dopo pubblicando la collezione completa dei Giambi e De Podi nell'82 scrive una prefazione micidiale su che cos'è l'Italia di cui lui parlava in quei versi degli anni 60 e 70 lui dice Carducci io ero dei moltissimi che nel 59 e nel 60 accolsero la formula garibaldina Italia e Vittorio Emanuele senza nessun entusiasmo per la parte moderata e i suoi condottieri ma lealmente come Garibaldi che per realismo politico aveva accettato di fare la guerra per unificare l'Italia come regno e non come repubblica e Carducci poi fa il bilancio di quello che hanno fatto quelle che lui chiama i moderati ma io vorrei aggiungere che Cavur era un moderato Cavur era un moderato che temeva i rossi e temeva i neri che temeva i rivoluzionari e temeva i reazionari ed era pronto come disse lui stesso a picchiare allo stesso modo sui rossi e sui neri i suoi successori pur continuando a chiamarsi moderati picchieranno di più sui rossi e Carducci ricorda gli indegni procedimenti usati con l'esercito Garibaldino e con Garibaldi la politica violenta e corruttrice tirannica insieme ed anarchica che sgovernò le province del Mezzogiorno il fuoco contro il popolo non solo contro i briganti al sud ma anche contro la folla che a Torino protestava contro il trasferimento della capitale a Firenze e poi dice Carducci eppure sopportammo Cotesto e altro avremmo sopportato se dopo una dittatura di cinque anni i moderati ci avessero dato nel 66 la vittoria ma i vincitori di Castelfidardo ci diedero custozza i trionfatori di Gaeta ci diedero lissa e ancora e chiudo lui dice cosa mi importerebbe se l'oligarchia dei moderati militaristi dopo una vittoria avesse seguitato a trattare il paese anche peggio di prima che importerebbe pur che l'Italia avesse vinto a tutto si rimedia fuorché al disonore e in quell'anno il 66 l'Italia ebbe inoculato il disonore non contare nulla essere in Europa quello che è il matto nel gioco dei tarocchi peggio essere un mendicante essere un cameriere che chiede la mancia questo è l'Italia agli occhi di Carducci e la plebe contadina e cafona muore di fame o in bestia di pellagra e di superstizione o emigra no menatela almeno a morire di gloria contro i cannoni dell'Austria o della Francia o del diavolo che vi porti allora il giochino che vi volevo proporre è e se Cavour non fosse morto non è il discorso ovviamente i grandi uomini risolvono tutto i grandi uomini risolvono quello che possono ma quelli un po' più bravi degli altri fanno un po' meno errori immaginare l'Italia degli anni 60 governata da un Cavour che forse non penserebbe che il pareggio di bilancio valga le rivolte popolari la fame la pellagra e che forse avrebbe imbastito in modo diverso la guerra del 66 forse 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 ecco e forse avrebbe gestito in modo diverso la lotta contro il brigantaggio e la repressione nel sud chi lo sa però quello che è certo è che mentre appunto la storia non si deve fare con i sé lo sappiamo tutti però forse è vero che la morte di Cavour a 50 anni anche se è un fatto storico quindi noi lo diamo per scontato e ci siamo abituati a non lamentarcene però uno scenario come dire what if cosa sarebbe stata l'Italia di allora con lui ancora per qualche anno magari ecco potrebbe essere una cosa a cui verrebbe la pena di pensare grazie grazie